Una grossa ipoteca sulla partita, il tiro da tre non va e allora c'è l'attacco per il Daru Safaká, arriva Logan e ferma tutto con il fallo. Certo, non hanno il bonus e mandano la squadra turca un'altra volta a rimettere su un lato. Mamma mia, questa palla persa poteva essere sanguinosa, invece sono riusciti a uscirne in qualche modo. Petri è andato al terzo piano per mettere le mani su questo pallone, poi le mani forti, veloci anche di Capitan De Vecchi per perfezionarne il possesso. Tre punti da recuperare per il Daru Safaká, arriva il tiro da tre ed è a segno Milko, Vienica e Mir Frenzic, i due giocatori che hanno fatto mal...